Siamo alla penultima regata di quest'anno, sabato e domenica ci sarà la più bella regata del Golfo del Tiguglio che è la Coppa e il Trofeo dell'Orso, Chiavari-Portovenere a sabato e Portovenere-Chiavari la domenica mattina. La regata è aperta alle imbarcazioni classe Orc, IRC e Libera, meglio detta Crociera. È una regata tradizionale, storica, raggiunge il 51esimo anniversario e abbiamo al momento 60 iscritti, potrebbero essere anche di più, con notevoli problemi di ormeggio sia in zona Chiavari che in zona Portovenere. Poi sabato sera c'è festa a Portovenere, 500 persone che si riversano nel Portovenere e domenica pomeriggio, la fine della regata, ci sarà la premiazione a Chiavari con il solito buffet, un po' di festa. La regata velica dall'Orso è un appuntamento tradizionale, come diceva prima il Presidente, storico. Ma dove nasce questo sodalizio con la vela? Sì, ormai si può proprio dire tradizionale. Forse tra quelle in Italia che ha avuto una durata, una storia più lunga ormai. Nasce dal grande amore per la vela che aveva mio padre, Nicola, che è stato non tra i fondatori ma proprio comunque tra i primissimi soci dello Yacht Club Chiavari, che all'epoca si chiamava Circolo Nautico e volle così ricordare suo padre nel 69 con la prima edizione. Poi in occasione del ventesimo anniversario fu mia volontà di istituire anche il trofeo Nicola dall'Orso in ricordo di mio padre e così è nata questa duplice regata Coppa dall'Orso e trofeo Nicola dall'Orso.